Siamo qui per inaugurare il nuovo centro di Casella, un centro importante rivisto che dovrà servire non solamente la città di Casella ma anche tutta l'area limitrofa. Sono momenti importanti perché comunque queste strutture permettono di ottimizzare il servizio che viene dato alla cittadinanza e a tutte le valli. Quindi è uno dei vari servizi che noi facciamo, delle implementazioni per tutta la parte del Genovesato e delle valli e continueremo così perché ci teniamo a riuscire a creare un sistema che possa sempre di più favorire anche la cittadinanza in quelli che sono gli obiettivi per la raccolta differenziata e quindi per la riduzione dei rifiuti e ovviamente per il beneficio ecologico delle nostre valli. Oggi è una giornata importante non solo per Casella ma direi per tutta la Valle Scrivia perché comunque il lavoro che è stato fatto qui come quello che verrà fatto nelle altre isole ecologiche della valle consentirà comunque al cittadino di venire a conferire il rifiuto in maniera pulita, in maniera semplicissima perché ci sarà un accesso anche con una rampa dove verrà conferito poi il rifiuto dall'alto e quindi tutto questo oltre ad aumentare sempre il nostro obiettivo che è quello di raggiungere la percentuale per la raccolta differenziata sensibilizza anche il cittadino a tenere il nostro paese più pulito. Questa isola ecologica è veramente un fiore all'occhiello direi perché è stata fatta molto bene, io sono contento da sindaco ma come consigliere delegato vorrei che tutta la Valle Scrivia fosse così quindi il nostro obiettivo sarà quello di migliorare tutti i centri e tutte le isole ecologiche affinché possono essere utilizzate e sfruttate nel migliore dei modi.